Il Comune di Campli ha pubblicato la gara d'appalto attraverso cui sarà selezionata l'impresa che seguirà i lavori di consolidamento del versante Siccagno e di messa in sicurezza del Borgo Storico di Castelnuovo, colpito sei anni fa da una delle frane più estese e gravi che il territorio di Campli abbia mai subito. Una notizia molto attesa dai residenti e non solo perché si tratta dell'ultimo step prima dell'avvio del cantiere. Esattamente, la progettazione si è appena conclusa, abbiamo pubblicato il bando per l'individuazione della ditta che dovrà eseguire i lavori dei 7 milioni di euro che ci sono stati assegnati per il consolidamento del versante di Castelnuovo. Parallelamente a questo abbiamo indetto proprio per sabato scorso una riunione con tutti i cittadini che hanno perso le loro abitazioni per dare un passo importante in avanti anche alla ricostruzione delle loro abitazioni. Dunque, una volta completati i lavori di consolidamento, sarà possibile passare alla ricostruzione delle case che erano a ridosso della frana. Parliamo anche di tempistiche. Siamo dati come tempistica per l'inizio del lavoro di consolidamento, non appena finiranno con l'apertura delle buste, la consegna da parte delle ditta e la valutazione della commissione. Quindi nel giro di qualche settimana credo possa essere fatto tutto questo lavoro e invece per quanto riguarda la ricostruzione contiamo di iniziarla nel 2024. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati, scaglionandolo in una serie di step intermedi. La fase burocratica è molto complessa ma ce l'abbiamo chiara e abbiamo individuato quelle che sono le azioni da fare nei prossimi mesi. I fondi ci sono? Assolutamente sì.